buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa oggi di 8 aprile la stiamo facendo in diretta adesso io sto parlando su facebook ma sono anche su instagram cerchiamo di usare tutti quanti mezzi vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata sulla zuppa di oggi intanto la questione fondamentale come sapete che per c'è un nuovo tassello sul quale oggi stanno litigando lega e movimento 5 stelle ogni giorno c'è una sua pena viene la voglia di dire buongiorno a gerardo che vedo che si è collegato mentre vedo anche marda tante altre persone giorgio a hug che si è collegato su instagram insomma siamo in diretta su tutte e due allora cosa sta succedendo oggi riguardo alla lite beh la lite è molto semplice salvini ha detto voglio la flat tax peraltro era già scritta nel contratto di governo invece di maio dice due cose in televisione ieri sera la prima è sì c'è nel contratto di governo ma questi leghisti esagerano a romperci le scatole sempre su tutto e in più dice ci deve essere la flat tax però non deve avvanteggiare i ricchi e soprattutto deve essere progressiva cioè sostanzialmente tu devi togliere più soldi più che proporzionalmente a quelli che hanno più quattrini questa è la tesi per annullare di fatto la flat tax che invece come immaginate bene tutti è una tassa piatta in cui la progressività viene data da che cosa dare più o meno detrazioni che si possono portare le persone che hanno minor reddito ma insomma questa è la teoria la prassi è quella che vediamo in questi due politici che stanno litigando su tutto compresa la flat tax oggi da segnalare sulla corriere della sera la letterina di di maio io l'ho letta per voi così non perdete tempo sui vostri giornali ma non state lì a leggervela tutta quanta intera ve lo dico dice la prima cosa che fa e ammette che ci sono delle tensioni del governo già questo è un passo avanti perché non era da tutti i giorni ammettere per un periodo si diceva d'amore d'accordo da me salvini che peraltro ci sarà anche questa sera quarta repubblica ha detto no non ci sono mai problemi di maio non ci sono più problemi è normale siete voi giornalisti che dite che ci sono problemi oggi c'è scritto nero su bianco ci sono tensioni politiche all'interno della maggioranza lo dice chiaramente questa mattina dunque nella lettera al corriere della sera di maio primo aspetto secondo aspetto di maio e come forlani nulla togliendo né all'uno né all'altro cioè come tutti quelli che governano renzi forlani e berlusconi d'alema letta che cosa fanno quando governano e quando vengono intervistati o peggio ancora non vengono intervistati qualcuno gli permette di dargli la prima pagina con una lettera cosa che avrei pubblicato anch'io in ogni giornale dicono quante cose magnifiche hanno fatto che sono i titoli i titoli dei decreti il decreto dignità abbiamo ricevuto la dignità il decreto lavoro abbiamo ricevuto il lavoro e lo spazzacorrotti abbiamo tolto gli spazzacorrotti lo fa di maio come lo facevano i precedenti i suoi predecessori sostanzialmente oggi rivendica quello che in sei mesi ha fatto non molto ce ne siamo accorti ma evidentemente qualcuno si buongiorno a paolo che vedo si è collegato ora in diretta chi c'è qua chiara cristina che sono invece su instagram e oltre aver rivendicato quello che hanno fatto come un democristiano qualsiasi come un renziano qualsiasi come un berlusconiano qualsiasi di maio dice però sulla flat tax c'è scritto è nel governo e e dobbiamo ed è giusto che vada avanti però deve andare avanti dice lui e ci deve essere un principio di proporzionalità quindi si dimanche esattamente quello che ha detto ieri se la flat tax c'è un principio di proporzionalità esattamente quello che non vuole salvini che ci sia la progressività insomma per farla semplice fa un passo indietro inutile che ci impicciamo su questa vicenda fantastico come nelle dimendicazioni di quello che ha fatto questo governo non ci sia appunto menzione né della flat tax né dell'immigrazione né di quota 100 che sono i tre motivi per i quali oggi litigano di maio e salvini tant'è che lo stesso di maio nella sua lettera dice piuttosto strano che salvini cosa che sta facendo ora fa gli accordi con dei governi europei che sono contro la redistribuzione dei migranditi pane bianco oggi ancora corretta sera poi vado sugli altri giornali dice manca un centro in italia manca un centro nel sistema proporzionale come è diventato quello che abbiamo oggi serve un partito di centro che non sono né forza italia né il pd perché sono partiti che vengono da un sistema maggioritario e quindi sono destinati a scomparire mi sembra un'analisi molto semplicistica non sulla scomparsa futura di pd e di forza italia ma non è che scompaiono per il sistema politico scompaiono per un altro motivo molto banale e che ovviamente i loro leader mi sembra che non siano non abbiano l'appeal che avevano nel 94 nel 2000 se non si sanno rinnovare moriranno toti oggi uno degli uomini uno dei pochi governatori di forza italia al fatto rilascia un'intervista e dice sostanzialmente in maniera esplicita che probabilmente lascerà berlusconi è un punto è una bella intervista fatta da antonello caporale in cui il l'unico uno dei pochi governatori una regione importante peraltro tolta la sinistra da parte di forza italia cioè toti vuol farsi il partito il partito che ma anche cioè il partito di centro è una risposta in diretta pane bianco ovviamente non sapeva che pane bianco avrebbe scritto la necessità del centro e toti si candida a fare il centro quindi con le famiglie tradizionali ma anche a favore degli omosessuali con le politiche di restrizione dell'immigrazione ma anche per la tutela dei diritti civili insomma questo è il progetto politico devo dire simpatico toti molto bravo a strappare la liguria molto bravo a portare un sindaco finalmente non di sinistra a genova ma l'idea del manche non mi sembra una di quelle che possa avere un grandissimissimo successo negli elettori io trovo straordinaria la cosa della raggi è un'altra veramente una roba straordinaria perché la raggi ci ha spiegato oggi che c'è una fake news che vedrebbe la sua macchina tra l'altro pagata da noi contribuenti davanti a una un divieto di sosta vi ricorderete cosa successe per la macchina divieto di sosta la panda rossa di marino facendo trasmissioni lo scandalo e prime pagine giornali oggi no non c'è nessuna prima pagina del giornale sul fatto quotidiano che ne fece una battaglia politica la panda di morino di di marino mi sembra che non ci sia neanche la notizia posso sbagliare ma cosa succede che dice a fake news la raggi si può dire un po isterica no non si può dire questo può dire solo la buongiorno no isterica ma dice siete fake news giornalisti in merda le solite questioni in realtà è vero non era davanti a un passo carrabile e noi davanti un divieto di tosta è davanti a un passo carrabile e ci spiega che lei siccome tutela lei ha difeso la città dai casa monica e dagli spada e rischia la vita allora siccome rischia la vita deve avere un auto senza autista davanti a un passo carraio perché se succede qualcosa è più facile evacuarla io ci dico ma lei ci crede a queste cose che dice lei ci crede ma soprattutto i giornali con che cavolo di faccia da culo fino a ieri romperono le balle a marino che io detestavo e oggi invece sono indulgenti nei confronti della raggi chi se ne frega secondo me non meritava né per marino né per la raggi i politici sono sempre arroganti i sindici delle città si mettono le macchine in prima fila in seconda fila hanno le macchine di servizio perché io ce l'ho la macchina di servizio no la raggi sì nonostante sia stipendiata da me poco ma è stipendiata da me quindi chi se ne frega ma detto questo mi sembra i due pesi due misure tra raggi e marino sono fantastici poi l'incontro delle banche l'altro grande tema di oggi che vedrete oggi sulle agenzie ma che non trovate molto sui giornali ma lì l'unica cosa interessante è questa e la dico contro intuitivamente per tutti quanti voi siete tutti così convinti che noi dobbiamo prendere un miliardo e mezzo nostro dei contribuenti per restituire il 90 per cento di quei risparmiatori che sono stati truffati bisognerebbe dimostrarlo dalle banche e quelli che hanno investito nel 2018 i loro risparmi non so su astaldi hanno visto perdere il 75 per cento proprio investimento e quelli che non visto i propri soldi sulla come si chiama su safido nel 2018 in borsa hanno visto perdere l'ottanta per cento del valore di safido loro non li distruttiamo i soldi perché loro non sono stati truffati non hanno investito in azioni in borsa e hanno perso l'ottanta per cento che investito invece in azioni di queste aziende bancarie invece verranno restituti i soldi con di queste presunte truffe attraverso la collettività ci può stare perché io penso che i piccoli risparmiatori a vicenza pensavano che quella fosse la banca infallibile e tutto quanto però sapete cosa c'è che questo governo e tria stanno cercando di dire una cosa ragionevole se tu hai più di 35 mila euro di ise e se tu hai più di 100 mila euro investiti in quella banca forse un'attenzione in più anche per la tua cultura anche per il fatto che comunque sei un signore che ha avuto un reddito un patrimonio tale forse lo deve avere perché se no qua che cosa facciamo rimborsiamo con i soldi dei contribuenti gli investimenti malfatti da parte anche di persone diciamo non ricche ma facoltose siamo tutti d'accordo nel farlo insomma oggi la castelli sottosegretaria alla quella che diceva a paduan questo lo dice lei beh oggi invece lei ce lo dice qualche cosa e cioè che il 90 per cento delle persone che sono state danneggiate verranno rimborsate lo dice a capezzone in intervista la verità pennac si scusa pennac si scusa per aver detto di battisti aver difeso battisti terrorista che ha appena ammesso 4 4 morti ma molto bravo montefiori oggi sul corriere della sera bravo un plauso montefiori prende per il culo pennac e dice scusami pennac che tu stai difendendo battisti e ti stai scusando di aver difeso battisti dicendo era la dottrina metterà pensavo che eccetera e io poi pensavo che la dottrina metterà penso e ritengo che dottrina metterà è quella che ha permesso la fine del terrorismo in italia perché ha fatto sì che deponessero le armi 220 250 terroristi no no dice cazzata dice montefiori non è vero perché non è vero prima di tutto nell 85 86 gli anni della dottrina metterò quella quella roba lì era praticamente finita e poi la dottrina metterò come dimostra il caso battisti non valeva per chi si fosse macchiato di reati di sangue tant'è che il ministro della giustizia di metterò non aveva concesso l'asilo a battisti quindi tu hai difeso battisti solo perché è un amichetto vostro caro pennac non per un fatto adesso lamenti sulla dottrina metterà un geopolitico chiaro sono di vicenza mi fanno pena gli anziani raggirati nel complesso però chi compra azioni deve sapere dice qualcuno che ha un rischio vedi c'è qualcuno di vicenza che ci scrive e sono contento che mi dia non tanto ragione ma che almeno abbia un dubbio sul fatto che noi abbiamo saliamo si scusa ma mi sa che saliano su questo non c'entra perché lui ha ritirato la firma a battisti ultima questione la libia io vi chiedo una cosa perché me la dovete spiegare voi ma dovete spiegare io non l'ho capita non l'ho capita abbiamo tutti i giornali raccontato oggi lo fa fantastico rampini come commento che attraverso un gommone i militari americani se ne stanno andando via dalla libia ma io mi chiedo ma che cazzo stavano a fare a serrai a tripoli i militari se se ne vanno via quando devono stare lì a difendere il il premier stabilito dall'onu cioè lì ci stanno i militari per difendere il presidente che è considerato l'unico legittimo da parte delle nazioni unite se no cosa ci stavano a fare là i militari americani niente assolutamente nulla e quello che ci spiega oggi secondo me straordinario rampini e in cui ci dice in maniera semplice rampini semplicissima l'era di trump è completamente diversa quel da quella precedente vi immaginavate l'america che conquistava il venezuela per le sue riserve petrolifere con l'attacco militare no non c'è non ci sarà perché trump dice noi non ci mettiamo a far casino come fece la clinton come fece obama che hanno creato solo pasticci internazionali senza risolvere magari toti meloni salvini magari dice jox a controllare il petrolio mentre qua vedo che continua anche la diretta su sto facendo una diretta congiunta questa è la prima volta questa mattina tra facebook e instagram e direi che però per il momento è tutto erano erano del consolato uso dice alberto non erano militari françoise impossibile buongiorno porro da silvana e tanti ciao anche da alfred costello e da tanti altri che mi stanno guardando in questo momento su instagram bisognerebbe qua dice che in molti si incazzassero come te dice all in rush detto questo io vi do appuntamento come sempre questa sera e lunedì con quarta repubblica per cambiare vi viene da ridere anche me abbiamo salvini ma d'altronde io ho pensato ma chi puoi avere oggi che parla di questa roba qua chi è il centro del casino salvini salvini che vuole la flat tax di maio che non gliela vuole dare come abbiamo visto sui giornali salvini che vuole fare una politica di immigrazione particolare e l'italia che invece si oppone le periferie che fanno che scoppiano avremo un reportaggio fantastico fantastico di chiara carbone su torre maura e di tutto questo parleremo questa sera quarta repubblica prima sedata a rete 4 se vi è piaciuta questa zuppa condividetela e soprattutto sul sito nicolaporro.it tra altre altre informazioni di oggi ciao chi spengo prima spengo facebook ciao